Sono stati eseguiti diversi interventi da parte dei vigili del fuoco in città per i rami pericolanti a causa delle forti raffiche di vento che si sono verificate nella tarda serata di ieri. È stato diramato un bollettino di allerta meteo nelle marche di livello arancione per tempeste con oltre 75 km orari per vento forte e mare mosso. Il transito di un sistema frontale nella serata di lunedì ha determinato precipitazioni sparse, un prevalente carattere di rovescio e un marcato rinforzo della ventilazione. In particolare in città non sono stati registrati interventi rilevanti da parte dei vigili del fuoco. Da come ci riferisce un nostro reporter di strada, in via 4 Novembre un albero è caduto sulla strada ostruendo parte della carreggiata, rimosso successivamente dai vigili del fuoco nelle prime ore mattutine. In via del Casello, a Lucrezia invece, il vento ha battuto questa recinzione metallica. A Pesaro, nella zona artigianale in via degli Abeti, la forte raffica di vento invece ha rotto parte di una vetrata di uno stabile. Segnalazioni arrivate anche nel tratto di strada di Sant'Andrea in Villis, dove la polizia provinciale si è attivata con un pronto intervento e viabilità nella raccolta di alcuni rami presenti sopra il manto stradale. Rimossa anche una pianta che ha ostruito la sede stradale della provinciale 122 Nobilara Fenile, sul posto è intervenuta una squadra di cantonieri su segnalazione della polizia provinciale. Piante cadute anche nella strada provinciale 32 Pesaro-Mombaroccio, nella 144 Molino-Valcella e la strada provinciale 30 Sant'Angelo-Monte Labate. Debole nevicata invece si è verificata nella zona alta del territorio, in particolare nella strada provinciale Gratticcioli, mentre nelle strade dei comuni di Carpegna sono intervenuti dalla prima mattinata quattro mezzi sgombraneve, così anche nel Catria e Nerone.